E' stato disinnescato ieri un grosso ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale rinvenuto in contrada freschia a Regalbuto, nell'Ennese, a ridosso della circonvallazione. Sotto il coordinamento della Prefettura di Enna, gli artificieri dell'esercito di Palermo hanno proceduto alle operazioni di messa in sicurezza dell'area, al prelievo e al trasporto del ritrovamento presso la cava Pruiti, in territorio di Egira, per poi procedere alle operazioni di neutralizzazione. Un sentito ringraziamento va a tutti loro per la grande tempestività e professionalità mostrata, scritto sui social il sindaco di Regalbuto, Vittorio Angelo Longo. Il dovuto ringraziamento è esteso anche al comando della Polizia Locale, alla stazione di Regalbuto dei Carabinieri, ai Vigili del Fuoco, alla Misericordia, alle OODV Aquile degli Erei, al Servizio 118 e a tutti coloro che hanno contribuito a rendere impeccabile ogni operazione effettuata.